Buongiorno da Edo, oggi voglio dedicare l'introduzione della puntata al professor Niklaus Wirth che ci ha lasciati il primo gennaio 2024 all'età di 89 anni e Niklaus Wirth è un personaggio fondamentale della storia dell'informatica perché è il creatore di Pascal e proprio il mese scorso eravamo qui a celebrare i 40 anni dalla nascita di Turbo Pascal che è il linguaggio della programmazione e l'ambiente di sviluppo che ha contribuito all'ingresso nel mondo dell'informatica di molti nati negli anni 80 ma è compreso, insomma quindi dobbiamo molto a Niklaus Wirth e vi voglio leggere dei passaggi da una sua biografia che ha scritto un articolo che ha scritto The Register mentre in sottofondo vi faccio passare dell'immagine da una delle ultime interviste che ha rilasciato in questi anni e quindi vi leggo un po' di estate appunto dalla sua vita Niklaus Emil Wirth è nato a Winterthur in Svizzera il giorno dopo San Valentino del 1934 nel 1959 ha conseguito la laurea presso il Politecnico di Zurigo dove è tornato in seguito e da cui sono scaturite molte delle sue importanti ricerche nel corso della sua vita cambiò più volte paese il suo master del 1960 fu conseguito presso l'Università Laval in Canada e il suo dottorato del 1963 presso Berkeley dove fu creato Berkeley Unix o BSD come è solitamente conosciuto rimase in California per i quattro anni successivi come professore assistente di informatica all'Università di Stanford durante questo periodo lavorò ai suoi primi due linguaggi di programmazione Euler nel 1965 e PL360 pubblicato nel 1968 grazie anche a questo lavoro è stato invitato a far parte del gruppo di lavoro che pianificava la prossima iterazione del linguaggio di programmazione ALGOL in sostituzione di ALGOL 60 ma la sua proposta chiamata ALGOL VU ALGOL WU fu scartata in favore di ALGOL 68 come descritto in History of ALGOL 68 quando la proposta di ALGOL VU fu respinta Wirt si dimise dal comitato contribuendo con una forte closing word all'ALGOL Bulletin 29 del novembre 1968 che contiene delle perle come per esempio tirai fuori la mia copia della bozza del rapporto su ALGOL 68 e gliela mostrai lei svenne invece Wirt prese la sua proposta la modificò per renderla un po' meno compatibile con ALGOL e la rilasciò nel 1970 con il nome di Pascal oggi sappiamo l'impatto che ha avuto Pascal che è un linguaggio che ha avuto un successo strepitoso ed è usato ancora oggi tramite le sue evoluzioni mentre ALGOL 68 è stato un flop anche a causa della sua complessità ha contribuito alla morte di ALGOL e invece alla nascita di linguaggi più semplici come C, Simula 67 e poi di conseguenza C++ e tutto il resto salto qualche passaggio nella sua biografia Wirt trascose due anni sabbatici in California presso lo Xerox Park il primo nel 76-77 il secondo nel 84-85 e ispirato da ciò che aveva visto lì al suo ritorno a Zurigo creò il sistema Oberon che è molto più ambizioso Oberon è un linguaggio di programmazione un ambiente di sviluppo con finestre in tiling e un sistema operativo completo l'introduzione al manuale di Oberon contiene quella che è stata definita la legge di Wirt l'hardware sta diventando veloce più lentamente di quanto il software stia diventando lento che mi sembra anche un po' una sua testimonianza dell'attuale sviluppo del design dei linguaggi di programmazione quindi volevo lasciarvi concludendo con in realtà un qualcosa che prendo da una newsletter dalla newsletter di Kent Beck Kent Beck spero di non dovervi dire chi è insomma che ha dedicato insomma al suo ultimo numero di software design Tidy First appunto a un suo incontro personale insomma sui vari incontri con Niklaus Wirt e in uno dei suoi primi incontri era in aereo che stavano andando entrambi perché entrambi risiedevano in Svizzera si stavano recando a Nizza in aereo e insomma seduti uno fianco all'altro stavano discutendo e Kent Beck in quegli anni stava diciamo finalizzando extreme programming e quindi gli stava un po' spiegando con grande passione l'incremental design e il refactoring al che al termine di questa sua entusiastica presentazione Niklaus Wirt, il professor Wirt, si è girato verso Kent Beck l'ha guardato dritto negli occhi e gli ha detto beh penso che tutto questo sia molto bello se non sai come si fa software design questa chiusura alla spiegazione di Kent Beck a Niklaus Wirt dell'incremental design e del refactoring poi c'è un ulteriore aneddoto mentre stavano atterrando a Nizza il professore si è rivolto di nuovo a Kent Beck e gli ha detto se conosci qualche parola di francese usalo, rivolgiti a queste persone in francese perché lo apprezzano molto per farvi capire anche la personalità vorrei chiudere questo ricordo proprio utilizzando la chiusura della newsletter di Kent Beck che riporta un po' di lezioni imparate dal professor Wirt l'ultima di queste si intitola Geek for Life il professor Wirt era settantenne quando stava scrivendo software embedded per microcontrollori, per elicotteri insomma la sua passione e quindi quello che io stesso intendo fare è keep geeking non so bene come tradurlo insomma continuare a essere geek a essere appassionato a scrivere software a creare software a programmare fino in tarda età insomma fino a dopo i settant'anni come appunto il professor Wirt e quindi Geek for Life e keep geeking è anche l'augurio che faccio a tutti voi entrando nella puntata di oggi ricordando sempre il grandissimo professor Niklaus Wirt Allora la notizia principale di oggi riguarda Pornhub perché riguarda un blocco totale all'accesso a Pornhub e a tutti i suoi siti in alcuni stati degli Stati Uniti appunto in particolare in Montana perché c'è questo blocco? perché adesso alcune leggi in stati come il Montana a North Carolina richiedono che Pornhub verifichi l'età dei propri utenti attraverso la verifica dei documenti di identità ora questa notizia perché in realtà è importante? per le conseguenze che ha e per quello di cui si continuerà a discutere anche quest'anno non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa e Pornhub stesso ha portato sul piatto degli argomenti davvero interessanti per cercare di discutere intorno a questi punti allora vi leggo un po' dal post che ho trovato su Ars Tecnica che appunto parla di questo fatto cioè che dal primo gennaio Ailo o Eilo insomma che è l'entità che possiede i siti per adulti Pornhub, YouPorn, Brothers e RedTube ha bloccato l'accesso in Montana, North Carolina ma altri stati che erano stati bloccati precedentemente per appunto protestare contro la legge che gli richiede di verificare l'identità digitale tramite dei documenti a ogni login e sostiene appunto Ailo che questa necessità questa richiesta rende l'accesso a questo sito meno sicuro e protegge meno i bambini e la privacy degli utenti rispetto a come era prima e per chi si dovesse trovare ad accedere a questi siti dagli stati in cui sono bloccati verrà accolto da un annuncio della porno star Cherie Deville dove parlano appunto di queste argomentazioni Ailo è già da più di un anno che cerca di sensibilizzare sul fatto che la verifica tramite documento di identità è meno sicura in realtà lo strumento migliore per procedere a questo tipo di verifica è quello di usare uno standard basato sui device e quindi sta cercando di fare lobbying con Apple, Google Microsoft e altre compagnie insomma per sfruttare proprio i device gli smartphone o altri device fisici in possesso degli utenti creando appunto dei meccanismi standard poi certificati dalla legge che consentano di verificare l'identità senza che Pornhub o peggio dei siti di terze parti debbano raccogliere questi documenti di identità che come poi prosegue l'annuncio di Cherie Deville sarebbero ancora meno sicuri perché spesso questi siti di terze parti usano dei protocolli di sicurezza ancora più insicuri rispetto a quelli di Pornhub stesso quindi si troverbbero a essere più facilmente briciabili quindi i dati sensibili dei cittadini sarebbero ancora più a rischio la vera soluzione sarebbe quindi quella di verificare l'identità tramite i device fisici e verificare l'età quindi anche tramite i device fisici è una soluzione che secondo appunto Ailo tecnicamente esiste è possibile già oggi ma richiede anche un certo consenso politico quindi è quello che manca al momento e naturalmente tutto questo è riferito agli Stati Uniti per adesso però se ne comincia a parlare anche in Europa perché sapete che Pornhub ne parlavamo l'anno scorso è stato inserito nell'elenco che viene definito VLOP i Very Large Online Platform cioè tutti quei grossi siti europei che hanno un grande traffico un grande numero di utenti mensili che quindi devono conformarsi a delle leggi ancora più stringenti questo richiederà nell'arco di quest'anno a Pornhub anche in Europa a cambiare un po' il design delle sue applicazioni per rendersi appunto conforme ai requisiti che richiedono un più alto livello di privacy un più alto livello di security e poi la famosa safety per i child per i minor quindi il classico child protection eccetera quindi sarà un grande tema di quest'anno ne continueremo a parlare e a questo proposito aggiungo anche che Bert Hubert che è un programmatore ma anche un advocate del software dell'open source è uno molto interessato dalle questioni europee ha fatto un articolo di commento al CRA al Cyber Resilience Act pubblicato il 29 dicembre sapete di CRA abbiamo parlato molte volte no? la preoccupazione di noi programmatori di varie community di varie fondazioni open source è quella appunto che ci siano delle responsabilità troppo forti caricate sulle spalle di maintainers di piccoli magari progetti che non riescono a rispondere rapidamente a falli di sicurezza o a togliere dal mercato dalla pubblicazione dei pacchetti che sono stati definiti vulnerabili così velocemente come richiede la legge insomma una serie di requisiti che non tutti riuscirebbero a rispettare insomma il CRA è stato un po' sistemato verso la fine dell'anno però ancora molti programmatori ritengono che non sia sufficiente che la legge non tuteli abbastanza l'open source ebbene su questo articolo che trovate appunto sul blog che si chiama birthhub.eu viene suggerito di adottare un punto di vista diverso che è quello dei giudici perché noi programmatori siamo abituati a leggere le leggi o qualunque testo con il punto di vista del programmatore cioè saltiamo preamboli commenti ci comportiamo quasi da compilatore interpretiamo solamente le parti più esecutive che ci sembrano più rilevanti e invece i giudici non si comportano così cioè giudici e avvocati leggono anche i preamboli leggono i considerando visto che considerando che ecco tutte queste parti dicono in realtà ai giudici cosa fare quando devono interpretare una legge che ricordo che deve essere abbastanza generico da rimanere in vita per anni e proprio nei preamboli e ne considerando ci sono tutte quelle indicazioni che dicono ai giudici di escludere l'open source dai progetti commerciali da tutte quelle norme che si applicano appunto ai progetti commerciali quindi quelle cose lì sono importanti secondo Bert Hubert quindi il CRA è stato fissato in un certo senso lo volevo aggiungere come punto di vista perché lo ritengo interessante insomma da inserire nella discussione e chiudiamo qua insomma il blocco relativo a leggi Stati Uniti EU però continuiamo sicuramente a parlare nel corso dell'anno e approfitto che stiamo parlando di leggi e di Europa per recuperare un articolo apparso su D-Day il 27 dicembre a firma di Sergio Donato dove si parla di IT Wallet o IT Wallet cioè in questo caso penso che IT si riferisca a Italia non a Information Technology insomma comunque IT Wallet è il portafoglio dell'identità digitale italiana che dovrebbe un po' raggruppare ecco tutti i tre principali sistemi di identità italiane che sono naturalmente SPID la carta d'identità elettronica CIE e poi la TS CNS quindi la tessera sanitaria carta nazionale dei servizi sapete che abbiamo parlato qualche mese fa se volete più dettagli cercate la puntata in cui abbiamo parlato di EIDAS ecco EIDAS è l'identità digitale europea condivisa insomma che permette anche a più stati di parlare quindi a un cittadino di uno stato di essere riconosciuto in un altro stato sempre attraverso la sua identità digitale quindi un EUD wallet EIDAS poi ha degli altri problemi di cui abbiamo discusso riferito ai certificati dei siti web ma questo è un altro problema insomma qua ci riferiamo all'identità digitale ebbene proprio in quest'ottica l'Italia appunto sta sviluppando IT wallet lo troveremo verso la metà del 2024 però sarà pubblicato a breve una versione dimostrativa nell'articolo che trovate appunto su D-Day si parla un po' di identità digitali di come ci si parla tra vari paesi di quali problema si risolve però quello che interessa a me soprattutto è che presto sull'app IO come dice il sottosegretario della presidenza del consiglio per l'innovazione Alessio Butti ecco c'è un link anche alla sua spiegazione dice che appunto tramite l'app IO sarà reso disponibile questo IT wallet che conterrà l'identità la patente di guida la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità quindi questa roba ci consentirà finalmente di lasciare totalmente a causa il portafoglio visto che già lo facciamo per i pagamenti abbiamo i pagamenti sugli smartphone ora lo potremo fare anche per l'identità quindi entro il 30 giugno 2024 questo sarà pubblicato richiederà un livello di sicurezza di tipo 2 quindi per accedere ai servizi bisognerà avere anche oltre al nome utente password anche un OTP quindi un one time password e poi per i dati più sensibili ci sarà un livello di sicurezza con accesso tramite PIN dell'utente non abbiamo ancora le pass keys però insomma è un gran passo in avanti per i due consigli di lettura di oggi per avere i link seguitemi su Mastodon allora il primo è sul blog del Red Team Pentesting quindi blog.redteam-pentesting.de l'articolo si intitola Bitwarden Heist How to break into password vaults without using passwords e racconta di come appunto il Red Team ha avuto accesso a un vault di Bitwarden sfruttando la vulnerabilità di Windows Hello e con dettagli tecnici insomma di tutta l'implementazione di tutto quello che hanno fatto per avere accesso appunto senza password a questo vault questa vulnerabilità naturalmente è già stata corretta nell'aprile 2023 da Bitwarden quindi la versione attuale non è più affetta da questa vulnerabilità naturalmente quindi hanno aspettato un po' prima di pubblicare questo articolo però è molto carino insomma è molto interessante leggere come hanno fatto tutti i vari passaggi che hanno seguito quindi ripeto blog di Red Team Pentesting l'articolo si intitola Bitwarden Heist How to break into password vaults without using passwords e il secondo invece ormai vi do sempre qualcosa di The New Stack non è colpa mia sono loro che pubblicano sempre dei begli articoletti questo articolo si intitola 2023 The Year Open Source Security Supply Chain grew up e questo articolo parla appunto dell'anno che è stato per l'open source security e in particolare per la supply chain e ha un sacco di riferimenti a una marea di report pubblicati durante l'anno o articoli di opinione appunto sulla open source security supply chain e su quello che si sta facendo sia in ambito legislativo sia in ambito delle fondazioni quindi appunto di Linux Foundation e di OpenSSF con le varie anche contromisure che sono state già prese nel corso dell'anno la pubblicazione del framework Salsa e poi SBOM KBOM i vari formati che ci sono insomma se volete un'introduzione a questo tema secondo me questo è un bel articolo intanto per fare un recap di tutto quello di cui si è parlato nel corso dell'anno e poi appunto per essere preparati a quello che verrà in quest'anno insomma sono temi che a me interessano particolarmente perché io faccio parte del DevRel team in OpenSSF quindi cerco anche un po' di fare divulgazione e sensibilizzazione forse dovrei farla un po' meglio forse invece di dirvi leggetevi l'articolo dovrei spiegarlo un pochino meglio però vabbè se volete spiegazioni maggiori insomma ditemelo e magari farò qualche video un pochino più approfondito ma intanto vi ripeto vi consiglio di leggervi questo articolo quindi lo trovate su The Newstack si intitola 2023 The Year Open Source Security Supply Chain grew up e chissà che sarà l'anno che anche questo podcast crescerà prima o poi comunque intanto io vi ringrazio perché nel corso del 2023 in realtà è cresciuto già parecchio quindi sono assolutamente contento così quindi grazie continuate a seguirmi datemi anche dei feedback positivi negativi anzi forse quelli negativi sono ancora più utili quindi mandatemi ditemi quando faccio qualcosa che non va bene che cerco sempre di migliorarmi basta ho finito con tutto il pippone grazie mille ci vediamo sicuramente la settimana prossima ciao grazie mille